Un trionfo di sogni è un momento in cui l'immaginazione si libra e ovviamente non c'è nulla di più forte di un sogno per scatenare l'immaginazione. Dobbiamo vivere e nutrirci di sogni. Il Carnevale è un grande momento, una grande opportunità per tutti i sognatori del mondo. Il Carnevale Veneziano è anche il ballo del Doge, l'evento giunto alla 31esima edizione che segna il clou dei festeggiamenti mondani in città. Sogni, ma anche arte e una certa dose di ossessione sono l'ingrediente segreto per renderlo unico, come spiega Antonia Sauter, anima e mente del ballo. Oltre che direttrice artistica del Dinner Show alla corte del Grand Cannes a Cavendramy. Che è importante vivere la vita con passione e anche un bricelo di ossessione. Ossessione per la bellezza, ossessione per la nostra Venezia, in positivo naturalmente, e ossessione per il ballo del Doge. Per cui quest'anno il titolo è proprio questo, Carnival Obsession, il mio ballo del Doge. Nel parterre internazionale brillano Alba Parietti, l'attrice violante placido e la stilista Elisabetta Franchi. Sarà un'esperienza multisensoriale nell'imponente cornice della Scuola Grande della Misericordia. Uno spettacolo che si compone come un musical di più registri interpretativi che coinvolgerà gli oltre 500 ospiti internazionali presenti. Ci saranno tante sorprese e molte, molte novità.